Bisogna chiamare il meccanico, fai ta 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 ta. Che devo fare? E chiamare il 1254. E perché ta 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 ta? Perché quando lo chiami fai ta 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 ta. Ah, ta 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 ta. Beh ma sia per questo devo fare pure tu 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 tu. Eh no, è così occupato. 1254 di Telecom Italia. Facile, come dire ta 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 ta.